Fermi tutti, ho una rapina! Giù, faccia a terra! Faccia a terra! Sono arrivati i fanchi dell'antiterrorismo e li ho disposti sui tetti. Altre novità? No, nessuna novità. Hanno rinnovato l'ultimato. Ingoiala. Ma stai a scherzare? Ho detto ingoiala! Ehi, è ingoiosi. Che si credi? Guarda, eh? Falla tacere, mi dà sui nervi! Diggli di smettere! Digglielo, ragioniere di merda! Creiamo una squadra speciale. Una squadra che, autorizzata dalla magistratura, possa combattere la delinquenza con maggior libertà. Ma come mai non l'hai fatto fuori quel cornuto di poliziotto? Come mai? Perché quando farò fuori, mi dovrà guardare in faccia. Mi dovrà guardare in faccia e trema' di paura. Mamma! Chiudo! Ma certo, dovrei fare come te. Ma non ti rendi conto che stai diventando un kamikaze della violenza di Stato? Torniamo ai vecchi metodi. Ti dispiace? Aio! Aio! Se lei mi salva, io le passo un'informazione preziosa. Riguarda Ferrender. Cosa? Lei non sa che Ferrender... Oh, come te chiami te? Oronzo. Ah, Oronzo, tu non fai lo stronzo. Cosa vuole? Mi lasci? No! Aiuto! E' tua questa? Di tua sorella. Che succede? Vignacco! Vignacco! Se far bravo ti faccio toccare pure la coppa. Dai, tocca su. Tocca che ti porta bene. Ti ringrazio. Ma io a queste cose non ci credo. E fai male. Molto male. Se non è bicarbonato, sei fregato, moretto. Guarda che qua la roba non è mia. Qua la roba non è mia. Qualcuno ci ha ammesso. E intanto veni con te. Mettilo sotto, che aspetti? No! 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 a a a